grazie ragazzi questa è la seconda parte del video precedente se vi chiedete perché stavo durato così poco perché non ho spazio quindi non vi lamentate i filmati non si possono saltare quindi grazie vieni perché siamo qui noi odiavamo il liceo ti ricordi di quando flash e i suoi amici mi hanno preso e rotto il portatile per temo la presentazione il concorso dei giovani imprenditori ci avevamo lavorato per mesi e la finale era il giorno dopo avevo un backup su una usb ma era nel tuo armadietto avevamo chiamato la scuola per poter entrare ma dopo ore ci dissero di no eravamo così disperati che abbiamo provato ad aprire tutte le porte della scuola e poi arrivare a questa aspetta cosa vuoi l'avevamo forzata si va aspettate non c'è nessuno quando sto numerica è un bel 30 magari lì continui il video che è tanto è nuovo quasi lo sono? perché me lo chiedi ora? io sono solo nervoso fidati è lì aspetta è il baseball league che ci fa quindi venire di sera ascoltare la partita continua a giocare come stai facendo ragazzo mio e vedrai che diventerai una leggera corriamo a filmare aspetta ci vediamo questo ragazzo ha la stoppa del campione sono sicuro si non mi fa mirare non mi fa mirare riparati a un placcaccio flash questo non lo dobbiamo fare noi non dai in confronto agli altri club una domanda da un milione di donne bene andiamo è roba da criminali sono un criminali non ti ho detto che ho mostrato la nostra presentazione a mia mamma la trova fantastica ha criticato solo una cosa il nome lei ha suggerito curare il mondo cavolo ma è perfetto vero? una volta di sopra il tuo armadietto è uno dei brilli vero? giù ci ho visti? non credo ti vedremo cioè ci vediamo in palestra ehi chi c'è? siamo di guai siamo di guai siamo di guai ma i dei andiamo le ho finite 9-6 polpante a qualcuno piace giocare devo riuscire a ricaricare il manzo a ragnatela dovrei avere del fluido nel laboratorio fotografico devo imparare a gestire meglio il mio fluido di ragnatela a capire e no Buon appetito! Quindi, biblioteca-laboratorio, laboratorio-palestra, palestra-armadietto, facile. Via libera, meglio muoversi. Che cos'è? No. Lei? No, avrei dovuto salvare il progetto online. Sono sicuro che fosse un ragazzino. Di certo non era il fantasma della vita. Le grate, le mie mie amiche dei ragni. Ok, dove ho lasciato il mio fluido di ragnatela? Il dottor Octavius della ESU terrà una lezio magistralis il mese prossimo. Devo prendere i biglietti, andranno a Roma. Forse ho anche io i miei eroi identitari. Sono diventissimi da qualche parte. Te lo fai a dire. Come va bene? Come, cavolo! Tu non ti fai mai. Tu non ti fai mai. Tu non ti fai mai. Ciao, mio figlio. Ciao. Devo trovare il modo di aumentare la direzione per non restare più la sicura. E ora? Dai, rimpalestra. Per raggiungere la palestra, devo passare oltre quella ventola. Un vecchio zaino. Non ricordavo fosse qui. Dovrei iniziare a segnare. Per raggiungere la palestra, devo prendere il video.